In questa lezione vedremo delle consonante che non sono pronunciate, tipo la G, tipo la L e la W. Vi sono delle parole dove gli italiani trovano difficoltà da pronunciare, perché in italiano si pronuncia diversamente e le vedremo in questa lezione. Quindi iniziamo prima per salutare a Giuseppe. Hello Giuseppe, how are you today? Hello prof, questa volta farò molto bene la lezione. Allora la prima parola Giuseppe? La prima parola è SIGN. Vi sono delle parole dove gli italiani trovano difficoltà da pronunciare, per esempio questa. Quindi si pronuncia SIGN, SIGN, senza G. Passiamo alla prossima parola Giuseppe? Vabbè allora è DESIGN. Sì, questa altra parola, come avete sentito Giuseppe, gli italiani la pronunciano in modo sbagliato. Dovrebbe essere DESIGN, DESIGN. Passiamo alla prossima parola Giuseppe. Questa è FOREIGN. Nella mia esperienza lavorativa ho trovato tanti allievi che pronunciano questa parola come Giuseppe. E questa parola si pronuncia FOREIGN. FOREIGN. Quindi la G non si pronuncia. FOREIGN. Passiamo alla ultima parola di questo gruppo Giuseppe. questa è facile, è corta, quindi GNO. Questa parola si pronuncia NO. NO. Allora, passiamo al prossimo gruppo di parole. Va bene, cambiamo lettera meglio. SALMON. Sì, ancora, la L in questa parola, per esempio, non viene pronunciata. quindi SALMON. 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 E la prossima parola Giuseppe? La prossima parola è ALF. Sì, ricordatevi che la H va pronunciata in questa parola. Quindi HALF. HALF. La L non va pronunciata. HALF. La prossima parola Giuseppe? Vabbè, allora questa è CALM. Sì, un'altra parola dove la L non va pronunciata. Quindi CALM. CALM. E allora, l'ultima parola di questo gruppo Giuseppe? La prossima parola è CHOLK. Questa parola l'avete sentito sicuramente. Quindi CHOC. CHOC. La L non va pronunciata. CHOC. Passiamo all'ultimo gruppo Giuseppe. È meglio che cambiamo parola. RAP. La W non viene pronunciata. RAP. RAP. E la prossima parola Giuseppe? Questa, lo sentite? Quindi questa si pronuncia RIST. 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 La W non viene pronunciata. RIST. RIST. In questa parola tanti trovano difficoltà. Quindi, Giuseppe? Questa viene pronunciata U. No U, ma HU. Aspirata. L'H va aspirata. E la W non si pronuncia. HU. L'ultima parola Giuseppe? Vai! E questa, c'è una canzone anche. WALL. Tantissimi trovano difficoltà a pronunciare questa parola. La W non va pronunciata. E l'H sì. Quindi, HO. HO. Questa volta prof non è andata così bene, eh? La prossima però prometto che studierò. Ed è tutto per oggi, grazie di avermi guardato. Se volete, potete sottoscrivervi al mio canale per ricevere ogni settimana una nuova lezione. Vi ricordo che c'è nella parte della home page la community dove potete lasciare i vostri messaggi. Se vi sono delle domande, scrivetele qui sotto. Se volete condividere, siete benvenuti. Grazie mille ancora e ci vediamo nella prossima. Take care. Bye bye.